Derby inedito, quantomeno in Serie D, quello che va insieme a Neri tra Rimini e Marignanese Cattolica. Gli ospiti per la seconda settimana consecutiva si affidano alla guida tecnica di Maurizio Galli, che dopo i debutti in panchina nel derby col Forlì, si appresta ad affrontare un nuovo derby. Stati d'umore diversi, Rimini arriva dalla brutta sconfitta col Givizzano, la Marignanese Cattolica dal gode ai tre punti che va sui derby col Forlì. Giallorossi che si affidano a due offensive a Gao e Merlunghi, per il resto la squadra non riceve ulteriori stravolgimenti. Per quel che concerne il Rimini, fiducia tra i pari a Lander Radorni, in difesa in classe 2003 Mengucci, in avanti a Ambrosini e Vutai, supportati da Lotti. Arbita la gara Drigo della sezione di Porto Gruaro, coadiuvato da Marazzo e Morotti della sezione di Bergamo. Dopo 12 minuti di studio, dal primo teo della bandierina alla Marignanese Cattolica passa, Merlunghi e Zanni dialogano alla memoria, il traversone dell'ex Bellaria viene ribattuto sui propri piedi. Il centrocampista riesce a girarsi, trovando la testa vincente di Moricoli che fa 1-0. Adorni può solo toccare il pallone che sbatte anche sulla traversa, prima di depositarsi in fondo al sacco. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra la prudezza del classe 2001. La risposta del Rimini è affidata a calcio piazzato di Ambrosini che si perde a lato. Ancora Rimini sugli scudi, Pupescu scodella 100 per il colpo di testa di Allotti, cofacioli costretto a ripiegare in corner. A 37esimo proteste ospiti, Garavini a Campanile lancia questo pallone in terra locale. Gocca da terra su presunta trattenuta di Ronchi. Il replay ci aiuta a capire meglio questo episodio. Tantissime le proteste da parte della formazione ospite. Un minuto dopo, il traversone di Valeriani viene deviato di testa da Ambrosini, palla lontana dallo specchio della porta. Termina qui la prima frazione di gioco sotto gli occhi del direttore di gara, Drigo di Portogruano. Nella ripresa, richiuti dal primo minuto, manda subito in campo Casola e Nigretti, rispettivamente al posto di Arlotti e Gigli. Al primo minuto arriva questo calcio di punizione di Ambrosini, fuori misura. A settimo la Marignanese Cattolica trova il raddoppio. La concussione di Zanni non viene trattenuta da Dorni. Ronchi si lascia soffiare sul tempo i pallone che merlunghi scaravente in fondo alla rete. La Marignanese Cattolica si porta sullo 0-2. Il replay ci mostra appunto il gol da parte dell'attaccante in maglia numero 20. I contropiede gli ospiti continuano ad affondare. Go calcia tra le braccia di Adorni. Dall'altra parte ci prova Casola ma il mirino è lontano. Ci prova anche Pari con la conclusione alla distanza ma Faccioli corre suoni tranquilli. Ambrosini poco dopo chiama la rispinta di puni Faccioli. Ma il rimini insiste con una conclusione innocua dalla distanza ad opera di Pari. Faccioli non trattiene la sfera. Butai calcia addosso al portiere mentre Casola trova il pertugio giusto per riaprire i giochi. Dall'altra parte la Marignanese Cattolica trova i tris. Musa innesca docente che secondo giudizio arbitrale si trova in posizione di offside. Altro episodio da Moviola che noi rivediamo attraverso i replay a cura di Eugenio Angeli. A quarantesimo Vutai lascia i suoi in dieci uomini, probabile gomitata, recata a un avversario, scatta il cartellino rosso per lui. Al fotofinish invece Ronchi fa da sponda per Pecci. In noi è entrato non perdona trovando sul piede caldo il pallone del definitivo 2-2. A fine partita qualche scaramuccio di troppo tra la panchia dei rimini e vari protagonisti in campo ma alla fine tutto torna alla normalità. 2-2 è un punto che non può accontentare la Marignanese Cattolica che invece, visto come si era messa la partita, accontenta, si fa per dire, la squadra di Richiuti.